buongiorno ragazzi buongiorno rebecca siete già in tanti allora oggi ho effettivi 30 minuti quindi non sgarrerò perché alle alle tre comincio di nuovo al campo con le lezioni e quindi oggi è così buongiorno luigi come sempre tutte le live poi le carico sul canale youtube istruzione cinofila su youtube se c'è qualche cosa che vi può interessare potete arrivare non lo so se avete visto dei video ultimamente in giro di quelli che ho postato ne ho postati una quantità tutti sulla gestione delle risorse della possessività due parole in più su quello che è già stato detto perché è sconsigliabile mettere la mano nella ciotola perché non si parte dai problemi per arrivare alle soluzioni punto e come ho detto in uno dei vari video l'ultima cosa che faccio fare a un cliente è fargli mettere la mano nella ciotola se il cane è davvero possessivo perché è un cliente non è un tecnico rischia di farsi portare via la mano e io ho aumentato il problema anziché toglierlo mettersi in contrapposizione col cane piace molti perché bisogna essere va bene ha dei rischi siate onesti a dire quali che sono i rischi non vuol dire che se non metto la mano nella ciotola non sono in grado di lavorare la gestione delle risorse è che si fa in un altro modo e quando faccio gli esempi in umana capiscono tutti di che cosa si sta parlando è che sugli animali poi noi siamo sempre a no ma loro devono fare devono perché devono sarà io preferisco un cane che fa perché vuole farlo e lo fa quando io chiedo si ottiene è fattibile vuoi fare quello che alza i toni up to you poi arrivano da me disperati dicendo non so cosa fare e tutto quello che hanno fatto finora era lavorare sul problema partendo dal problema e non dalla competenza mancante quindi ragionate un pochettino anche sulle informazioni che che ricevete il mio messaggio è stato d'impatto era quello che voleva ottenere insomma un attimo di scombusolamento i commenti si parlano da soli cioè ci sono diversi approcci alcuni etici altri allora rebecca le ho inviato un messaggio qualche giorno fa sto ricevendo un sacco di messaggi spero di averti risposto e tra l'altro scopro che ogni tanto ci sono dei messaggi messi in posizioni che non vedo subito quindi sono veramente poco reattiva guardo anime pochissima roba però qualcosa sì probabilmente gli anni mi guardato io non li conosco perché sono anche un po nerdo vabbè allora chiudiamo la questione della ciotola se c'è qualcuno che ha delle domande da fare sono sono qua inizio a rispondere alle vostre varie informazioni allora viva la maddie ciao da poco un cucciolo di australian shepherd che non ha mai giocato e non so come stimolarlo un australian che non gioca sta bene cioè di solito sono cani più o meno tutti i pastori estremamente intensi all'inizio mordono la qualunque basta che si muove un oggetto e vanno proprio per tra virgolette così definizione di di pastore estremamente reattivi al movimento e suonia è molto facile generalmente farli attivare la domanda tipica è infatti pensavo di prendere un cucciolo attivo invece un colone da divano senza preoccupazioni magari è proprio la classica eccezione che conferma la regola ma io farei un certo dal veterinario con però prelievo del sangue perché a volte ci sono cose che non si vedono subito quindi un'analisi clinica esterna cucciolo sta tutto bene benissimo ma fantastico poi però quando inizia ad andare a guardare per bene ci sono dei parametri strani come è successo con hobby io sono andata dal veterinario dicendogli è troppo tranquillo non avevo una motivazione giocava mangiava attivissimo però troppo bravo ecco mettiamolo troppo bravo troppo in ascolto e aveva dei parametri fuori fuori dalla cosa corretta niente di che niente di allarmante ma ho preferito saperlo quindi parti dal chiedere al veterinario di controllare se sia tutto a posto e dopo di che cerca di metterlo in situazioni molto molto easy e provare a salire un po però ecco un cucciolo di australian che non gioca fa un po il paracarro non è una cosa che mi sento chiedere o dire molto di di frequente allora aspetta che ok pensavo una cucciola mix pastore australiano border usa molto la bocca si beh che un pastore morda cioè se un pastore non morde io mi domando dove si è finito il pastore che lavoro potrei fare con un cucciolo di terrier nero russo non alcun problema comportamentale tutto quello che vi piace cioè non è che siccome io ho un terrier devo fare certe robe siccome io un pastore ne devo fare delle altre il bello dell'avere un cucciolo è che sono molto aperti e io personalmente non specializzo nessun cane mio è personale fino a che non hanno magari un anno e mezzo due io cerco di presentargli tutto il presentabile in questo modo io conosco il cane gli do un sacco di competenze vedo cosa gli piace e poi mi indirizzo magari verso le sue competenze ad esempio io adoro l'acqua obino però comunque ogni tanto gliela propongo sia a livello tecnico di educazione di esercizio fisico di equilibrio di ascolto attenzione quant'altro andremo a nuotare insieme come ho sempre fatto con l'altro mio pastore probabilmente no perché a lui non piace troveremo dell'altro però ecco nel bagaglio delle cose che sto facendo sta facendo anche anche questo quindi prova le tutte e non t'affezionare a nulla come risolvo il problema dell'avvio alla porta di casa quando passa qualcuno dell'abbaio probabilmente dipende dipende dal cane dipende dalla porta dipende da cosa è stato fatto fino a quel punto lì perché tu hai già una risposta e quindi quella risposta è già stata condizionata bisogna capire quanto è forte il condizionamento che è stato messo alcuni cani devono fare la guardia io a volte glielo consento se non perdono proprio il senno quello che cerco di fare è dargli anche qualcosa di differente ad esempio hai fatto il tuo bubu bravo ok adesso vieni e fai altro altro che sia incompatibile con l'abbaio quindi il cane abbaia gli riempio la bocca con o una pallina o una treccia o del mangiare ipotesi ma non gratis perché non voglio farti abbaiare cioè non è tipo un tappo proprio ti chiedo di fare un'altra roba vai al tuo posto e lì si inizia un'attività differente però non so darti un consiglio senza vedere il cane ricevo tantissimi messaggi soprattutto in questi giorni di richieste di aiuto e io a tutti scrivo servono consulenza serve vedere il cane è come se chiedete a un parrucchiere di tagliarvi i capelli al telefono che risposta volete che vi dia prendi la ciocca e taglia ma lo fareste no è la stessa identica cosa che posso fare io qui senza vedere il cani difficile allora non è normale infatti è troppo tranquillo magari è normale magari ha il classico cucciolo che è un'eccezione che conferma tutte le altre regole nascono degli dei soggetti estremi estremamente predatorio estremamente aggressivo estremamente socievole estremamente puntini 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 magari tu ne hai trovato uno estremamente calmo l'importante è sapere che il cane stia bene prima di magari uno si fissa sul fatto che il cane non sta giocando e non gioca perché che ne so non c'è male la pancia cioè noi non giocheremmo se non siamo tanto bene poi magari è sanissimo ed è una questione di personalità cosa si fa in quel caso io rispetto la caratteristica del cane rispetto il fatto che hobby non ama l'acqua ma poco per volta comunque cerco di inserire anche quelle competenze quindi non stare a preoccuparti anche perché ripeto se non si vedono i cani magari lo vedessi al campo ti direi siente un veterinario oppure no guarda è e ci può stare nel range dei dei cani che che si vedono con gli altri cani aria fa un gioco molto fisico con cresta e mostra spesso i denti ci sta ci sta quando giocano a darsele come non esistesse un domani la comunicazione è intensa per forza cioè sto correndo 800 all'ora magari senza neanche frenare e vado contro l'altro cane se all'altro cane piace magari non scatta la rissa però i toni vanno su e per quello che spesso ritualizzano anche un sacco di di gesti c'è lo starnuto c'è l'inchino ci sono certi movimenti del corpo che proprio anche da lontano si capisce che il cane ti sta dicendo sto giocando sto giocando faccio finta faccio finta e poi giù ammazzate come non esistesse un domani ci sta ciao da genova ciao stefi il mio bassotto bai a tutti i cani che vede dal terrazzo come faccio a farlo smettere e non farlo salire sul terrazzo allora è una battuta del cavolo me ne rendo conto però attenta che se non lavori la soluzione e lo esponi sempre allo stimolo il terrazzo con giù la gente e lui continua a sbagliare tu stai allenando l'errore è un bassotto che abbaia a quello che gli passa davanti non sta facendo una cosa non corretta forse non è in grado non è stato socializzato bene quindi non sa vedere uno stimolo e non sa non rispondere a quello stimolo ogni volta è stimolo risposta stimolo risposta stimolo risposta che è tutto tranne che quello che noi desideriamo e però è quello che spesso involontariamente insegniamo cerca di limitare la sua zona di perlustrazione sul terrazzo e se vedi che proprio va fuori di testo ci sono degli orari in cui c'è veramente troppo traffico troppa gente lui non non si contiene tienilo all'interno fino a che non ha iniziato a poter dare delle risposte diverse quando a volte noi io faccio l'esempio della pallina tiro una pallina molti cani partono senza neanche aver acceso il cervello oggetto in movimento vado oggetto in movimento vado non c'è cognitivo è un riflesso è una risposta automatica se sei in quell'ambito il cane fa fatica a fare una roba diversa e l'errore è tuo che lo esponi a una cosa a cui lui non riesce a resistere consiglio chiedi consiglio a un istruttore esperto di modifica comportamentale che ti dia degli strumenti per farlo rasserenare calmare dare risposte differenti e poi piano piano ricomincia ad esporlo al famoso terrazzo e guardi a che punto siete 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 arrivati però il livello di difficoltà a cui si inizia lo stabilisce chi impara non chi desidera il comportamento finale quindi non è gentilezza è proprio tecnicamente funziona così cucciola dieci mesi spinoncina meticcia al guinzaglio tira da matti e non sente ragioni domanda super gettonata la tirata al guinzaglio mi arrivano credo 4 5 messaggi al giorno su questo il fatto che sia una spinoncina dice poco non so quante passeggiate fa non so che tipo di stile di vita faccia non so come è fatto il tuo guinzaglio non so come vai fisicamente in giro tu come tu ti muovi al di là di come si muove il cane mi mancano troppe informazioni per poter avere anche un quadro vago della della domanda che fai quello che ti si può consigliare senza fare un danno perché attenzione non tutti i consigli sono esenti da da errori lavora in casa lavora in casa col guinzaglio ti assicuro che non tira fisicamente non possono tirare perché probabilmente le stanze in cui tu giri sono più piccole della lunghezza totale del guinzaglio lì puoi iniziare a rinforzare il cane per un comportamento finalmente corretto e lentamente tentare di riproporre la cosa all'esterno funzionerà difficilmente perché se come spesso capita le distrazioni quindi l'ambiente esterno la mancata socializzazione una sbagliata socializzazione sono il tuo problema quello che tu hai fatto in casa crea solo una memoria muscolare che però non è sufficiente per poter arrivare a gestire l'ambiente esterno per questo serve vedere voi e i cani e quando c'è un guinzaglio tirato serve anche vedere il proprietario perché spesso quando io poi prendo il guinzaglio in mano io sono alta un metro e niente prendo il guinzaglio in mano e magicamente il cane smette di tirare perché non c'ho il fluido magico ma io rispondo in automatico all'errore che sta facendo il cane correggendolo e quindi immediatamente tu vedi sto guinzaglio che si rilassa che cos'è magia no prossemica il modo in cui io mi muovo in cui mi giro in cui parlo fisicamente cioè proprio letteralmente col cane anche se sto parlando col cliente però per fare questo e insegnarvelo devo avervi visavi davanti mi è stato detto di distrarle portarle in un'altra stanza antonella no t'ho già risposto non ma distrarre un cane e la parola hai usato la parola giusta è una distrazione se voleva farlo la distrai quanto tre volte alla quarta anzi le ha insegnato non darti ascolto perché tanto la tua indicazione non è informativa ma è punitiva e quindi al cane una certa va e fa il cavolo che vuole e tu cosa fai vai fuori come una zucchina e giustamente ti arrabbi perché c'è anche messo dell'impegno e quello che ha funzionato per un po poi magicamente non funziona più dov'è il danno di un consiglio che il più delle volte non funziona quello della distrazione che tu hai aumentato la soglia del cane quindi se prima era un problema di livello 1 adesso abbiamo un problema di livello 3 e più pasticciate con i cani con queste tecniche del bu e più diventa poi difficile arrivare ad una soluzione reale efficace io oggi questa mattina ho avuto delle lezioni ero al proprio al settimo cielo fino ad una ragazza che ha uno dei cani più complessi che ho al campo in questo momento io oggi l'ho detto potremmo iniziare a valutare il fatto di non risolvere il problema ma di doverlo gestire cosa significa che non sono capaci di lavorare no significa bisogna prendere atto del fatto che il limite di quell'animale di quell'individuo potrebbe non essere sormontabile con tecniche di modifica comportamentale e non è una bella notizia non è una bella cosa da dire infatti ho detto guarda prima di tirar su bandiera bianca sentiamo anche un collega perché magari sono io che ho preso una strada non non corretta ci può stare le tecniche da usare sono sono tantissime è probabile che io abbia toppato si spera ma se un cane da un certo livello li è li rimane e la l'unica cosa costante quella io posso anche iniziare ad accettare il fatto che il cane oltre quel limite non va e sto parlando di un cane veramente molto ansioso ma ansioso in un modo importante cioè veramente fa fatica a respirare quando è in giro cioè capisce a me non possono fare le passeggiate la vita è veramente difficoltosa e non ha mai dato in realtà risposte buone cosa dico in quella fase gestione cosa vuol dire gestione che quello che fa il proprietario viene fatto in modo che il cane in qualche modo resista a tutto all'impalcatura è un po come avere un figlio o un parente disabile se uno è cieco è cieco non lo metti alla guida appunto guidi tu quella è la gestione se uno è sordo non gli parli in questo modo parli coi gesti li fai leggere il labiale e cose di questo tipo ti adatti tu al limite della della persona perché la persona può impegnarsi quanto vuole ma oltre un certo non va quindi occhio con queste robe del lo distraggo perché rischi di alzare la soglia dove trova il mio campo in provincia viva rese poi le informazioni le trovate nei link in bio ciao bulterio di un anno quando vede i bimbi corre vuole prenderli come lavorare sulla calma allora va visto perché va vista qual è la modalità con cui vuole andare da loro è in predatorio è in aggressività che sono due cose molto differenti profondamente differenti vuole andare a giocarci è incuriosito è infastidito e in base a questa prima macro risposta potrei darti un'altra macro risposta in generale per non fare un danno ti direi stai a distanza di non reazione quindi se ci sono dei bambini in lontananza il cane tranquillo un bel premio un bel ok va bene e cambi strada fino a che io non vedo un cane non so darti un'indicazione pratica perché se interpreto male o tu hai letto male o in quel contesto lì non è fattibile la cosa che io ti consiglio tu fai un errore che ti aumenta il problema gli errori che si fanno in modifica comportamentale hanno dei costi e i costi sono complicare tutto quello che poi si vuole andare a fare io ho postato ho ripostato un video in cui mi hanno taggato di un malin che ha una museruola due ragazze sedute sul divano malin ha una certa una certa sul segnale parte su una di queste due ragazze e non ho idea di cosa sia successo non so cosa abbia passato prima quel cane non so niente di quel cane video dura cinque secondi a pancia mi sembrava una sessione fatta apposta per cercare di insegnare al cane a stare sereno hanno toppato tutto il toppabile ma proprio tutto troppo poco spazio la posizione del cane sbagliato la posizione di chi lo gestisce è sbagliata la posizione di quella che avrebbe teoricamente forse se è quello lo scopo dovuto interagire passivamente col cane è sbagliata eppure se io avessi descritto una sessione l'avrei descritta così due persone in un ambiente tranquillo in cui il cane può dare una risposta diversa peccato che lo scenario che ho in mente io non è vagamente simile a quello che hanno messo in piedi loro via web online con una consulenza online forse ci si può capire ma con domande da tiktok raga è impossibile quindi attenti a quello che chiedete rischiate di avere delle risposte e chi vi dà una risposta è perché non si rende conto del ginepraio in cui si va a mettere a seconda del cane che incontra baia in modo esistente va visto il cane abbiamo preso un cucciolo di dovo argentino maschio che tipo di educazione consigli quella di tutti i cani cioè è questa è una domanda quando sono piccoli non si parla di addestramento quindi mi dici voglio fare il campionato mondiale di agility ho preso un dogo forse ti avrei consigliato un cane differente ma l'educazione base è identica dal chihuahua all'alano punto non mi devi mangiare non devi tirare il guinzaglio non devi saltarmi addosso devi imparare ad ascoltare devi sputare magari la roba che ti chiedo di di sputare se già in bocca qualcosa di pericoloso cos'è farti manipolare la visita al veterinario resistere alla tentazione di rispondere a tutti gli stimoli quindi vedi cani va bene vedi persone va bene cioè della serie non devi fare nulla quello che voi volete da un cane è la non reazione non la reazione perché le idee che tirano fuori i cani non sono grandissime quindi indipendentemente che tu abbia un dogo un barboncino l'educazione che gli devi dare è quella più calma tranquilla serena e completa devi essere in grado di chiedere delle cose al tuo cane e di vederle accadere e io parlo di richiesta non di comando perché se già parlo di comando subito diventate rigidi ma rispondereste a uno che è sempre così non è autorevolezza è un rompicoglioni che si è girato male la mattina e mi dà gli ordini uscite da quella da quella catena lì io ho dei cani enormi al campo di una delicatezza e sensibilità estrema li guardi con uno sguardo un po' ciliato questi si guardano come oh mio dio ho fatto qualcosa e poi ho dei cosini grossi così che magari gli dici finiscila con un tono imperioso e vengono a brutto muso a guardarti come dirò io sono il padrone del mondo quindi il fatto che sia un dogo non dice moltissimo quella che è la propensione di razza la memoria di razza sì ma dell'individuo che tu hai a casa no quindi cerca di crescerlo al meglio è un po' timido rasserenalo è un po' prepotente cerca di spiegargli che non si fanno certe cose però di nuovo non ho davanti il tuo cane quindi il tipo di educazione poi esistono cioè l'educazione è educazione appunto non c'è un tipo di educazione ci sono metodi differenti io eticamente certi strumenti non li uso non li hanno usati per me per crescermi vedo la differenza con anche le persone seguo su tiktok delle persone che si occupano di educazione umana e io sono estremamente in linea con quello che viene detto e leggendo i loro commenti mi accorgo che il paragone cane barra umano spesso è molto profondo ma siamo noi ad avere determinate così idee del fatto che devo comandare ti piacerebbe poterlo fare mettiamola così però se l'individuo che è davanti non ha intenzione di ascoltare che sia un essere umano un cane un cavallo un pesce rosso o tu vai in aggressività o tu non ottieni quello che vuoi quindi io di mio non mi metto in quella in quella strada lì e ottengo ottimi risultati perché attenzione poi alcuni confondono il metodo gentile col permissivo no permissivo zero bull terrier eh l'ho visto non so aiutarti o meglio non so aiutarti su tiktok sto facendo il clicker allora cosa penso del clicker la mia faccia l'ha già detto con la vecchietta di casa ho fatto medito classico che cos'è medito classico aspetta metodo classico quindi per classico intendi strattonate ecco allora il clicker per me è un aggino molto simpatico la scienza ha già più volte tentato di dimostrare la sua efficacia coi cani e non c'è ancora riuscita parlo di cani galline porcellini d'india e un sacco di altri animali clicker toda la vita io appena avrò i soldi per poterlo fare mi iscriverò personalmente a un chicken camp per migliorare le mie mechanical skills cioè proprio la mia velocità di click però non lo uso coi cani quindi perché voglio farlo perché se sono gravissima usare qualcosa quella mia abilità meccanica mi torna utile anche su tutte le altre mie competenze questo funziona funziona sempre così più ne sapete fare meglio è qualunque sia soggetto metodo classico non ho ben idea di che cosa sia per me c'è un metodo coercitivo e c'è un metodo gentile nel mezzo c'è la qualunque sapresti consigliarmi un buon educatore in sardegna cagliari vorrei provare a mandarmi un messaggio io ho una ragazza che ha fatto tantissimo lavoro online con me non l'ho mai vista dal vivo però ha fatto veramente tantissimo fra cui passare anche degli esami grazie alla preparazione che le ho dato io online e non so se sia cagliari ma se lei non è vicino a te lei può essere un buon tramite e visto che mi conosce non ti consiglierebbe qualcuno che è un pazzo scatenato un cane da caccia può essere calmato se iperattivo qualunque cane se iperattivo può essere calmato ma bisogna partire dalla motivazione per cui iperattivo iperattivo perché davvero c'è un problema anche fisico metabolico bisogna capirlo perché altrimenti te puoi lavorare quanto vuoi ma fino a che non intervieni con un veterinario comportamentalista che ha strumenti ben diversi la soluzione non arriva a farla è iperattivo perché ha una mancata socializzazione educazione attenzione troppo poco tempo cioè troppo tempo libero poco tempo di qualità il lavoro che fa non è adatto per lui cioè anche lì c'è un mondo intero da capire cambi quello e cane sta bene semplicemente gli mancava quello che gli serviva che vorrì un cane iperattivo cioè iperattivo è quello che vedo io all'esterno ma bisogna capire un po quello che c'è dentro sono tre gli educatori che ho consultato e mi hanno solo insegnato la gestione del cane fa consulenze io faccio consulenze e non le accetto tutte nel senso che io ho il sul sito trovate un modulo molto semplice credo proprio di descrivere brevemente il problema se si può di mandare un filmato se è un problema di tipo comportamentale complesso non accetto la consulenza online perché non è sufficiente e posso dare lo dico subito è consiglio magari la consulenza spot per darti consigli di gestione però ci sono cose che vanno fatte dal vivo punto e non c'è modo non mi puzzano i vostri soldi e volete ricoprirmi d'oro fatelo ma sono abbastanza onesta che se un lavoro non si può fare di qualità in un certo modo io non l'accetto perché quando quando chiuderei la lezione dico però è mancata qualcosa manca la parte di no niente strattoni aspetta metodo classico con i gesti per i comandi il metodo errato quindi allora i gesti si usano un sacco ehm e molti clienti sono contenti con quel livello però eh il gesto deve nell'addestramento anche di base un minimo di verbale bisogna averlo se devo essere legato a un gesto significa che se ho il cane davanti a me e non mi vede eh il tuo gesto non è non è efficace quindi a me piacciono un po' di più i verbali del resto i filmati di me che lavoro con la parola sono ormai ce ne sono talmente tanti che penso l'abbiate capito richiesta di cosa ma forse ancora un po' in tensione allora due secondi e vado perché ho lezione eh abbiamo avuto una gravidanza esterica da poco gravidanza esterica alias picco di prolattina qualcosa di normale e fisiologico ehm non è nulla che non dovete aspettarvi abbiamo ancora la baia insistente eh non ho capito la connessione la eh fra le due e fra le due cose se il cane ogni volta che ha un calore o per l'appunto un picco di prolattina va fuori come un balcone e non è serena magari io valuterei eh boh di sterilizzarla o comunque di fare un check a livello ormonale perché a volte ci sono veramente dei picchi non fisiologici cioè l'animale non sta bene però di nuovo punto uno quello è ambito del veterinario e io non saprei dirvi se è il caso di sentirlo o no perché non vedo a che livello è il cane allora eh Mattia Bianchi ora ti sgrido come far perdere al cane e ancora cucciola il vizio di far pipì quando rientro a casa come farti capire che hai una cucciola che quando ti vede la fa quello che hai davanti è un cane cucciolo ok non vuoi che la faccia dove eh dove tu la saluti fodera il pavimento lì e saluta sto benedetto cane accetta il fatto che continui a fare sta cazzo di pipì puoi salutarla con più calma in modo che ci sia meno eccitazione ma è normale fisiologico quindi non chiedete quello che non non potete ottenere è la prima live in cui ne blocco due ragazzi non mi era mai successo anzi diciamo tre però ci sta eh ci sta perché quando ti metti in contrapposizione con certe con certe idee te li attiri addosso con il loro account falsi allora eh usciamo da questo eh da questo loop eh metodo classico gesto e comando fino al verbale non funziona in quel modo ehm se c'è il gesto il gesto eh rimane e rimane cioè metodo classico che vor di niente non esiste il metodo classico eh adesso ci sono una serie di indicazioni pazzesche eh i metodi sono punizione positiva rinforzo negativo rinforzo positivo punizione negativa e questi sono i due macro macro metodi uno è gentile e uno è non gentile lo chiamano eh balance in inglese classico in italiano coercitivo per chi è onesto cioè onestamente il gentile eh no gentile gentilista qualcuno lo butta sul cognitivo come se gli altri come se l'altro metodo non avesse nulla di cognitivo però vabbè eh metodo classico non non capisco letteralmente che 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 stai a dire raga devo scappare perché altrimenti faccio tardi e indio mi aspetta mi aspetta al campo no nel senso non è un problema anzi che io faccio le feste ma con gli anni perde ma con i mesi perde il vizio di farlo è un cucciolo e se mi fai questa domanda mattia ehm prova andare non è un vizio i cuccioli non hanno il controllo degli sfinteri vai da un istruttore fatti dare quattro basi eh di di che cosa ti sei portato a casa eh ti insegnerà un sacco di di altre cose ehm e ci sta vecchietto a casa sta facendo il classico ok Rebecca va bene non ho capito che cos'è il metodo classico eh non ha ehm tecnicamente stai dicendo due robe che non ha cioè il clicker eh non è un metodo il clicker è uno strumento eh il metodo che si applica col clicker è lo shaping hai usato shaping perché quello arriva dal gesto e poi si arriva al verbale eh però eh di nuovo è una roba tecnica scappo che mi aspetta ehm io sono ragazza del cane principalmente dei miei non nasconderti dietro eh dietro il dito Mattia eh convinci i tuoi ad andare a fare un corso di istruzione e tu magari prenditi l'onere di di dargli una mano con il tempo se i tuoi lavorano eh è divertente eh crescere con un cane che che ti sa ascoltare caricherò anche questa live su su youtube mi aspettavo più critiche visto che ho visto visto che ho eh visto che si è connessa gente che ha fatto grandi eh critiche agli ultimi video caricati mi aspettavo la guerra eh la guerra mondiale invece invece no evidentemente tutto quello che mi dovano dire non l'hanno fatto peccato e niente vi saluto ci vediamo la prossima live questa come tutte le altre le trovate sul canale di di youtube bau bau e buona giornata a voi che per voi è domenica per me è lavoro ragazzi ciao bau